L'individualizzazione del lavoro vuol dire che comunque in linea generale tutti hanno qualcosa che devono migliorare, che poi sia un discorso metabolico ad alta intensità o a bassa intensità, o più generale o più specifico, o un lavoro di prevenzione per infortuni pregressi o un lavoro di prevenzione perché, dico un esempio a caso, valutando la forza espressa durante il Nordic ci si rende conto che c'è un deficit dei flessori o di un flessore rispetto all'altro, questo chiaramente è solo un esempio. E' normale che poi, questo per me è individualizzazione, ma non è individualizzazione una volta al mese, è individualizzazione strutturata teoricamente con un programma quotidiano che chiaramente tocca diversi aspetti per tutto l'anno. Questo per me vuol dire allenare, capito? Troppe volte io sento ma questo no non lo facciamo, quello no non lo facciamo. Secondo me la base deve essere cose semplici, efficaci e strutturate.